Buongiorno ragazzi, oggi il piccolo magazine ha un stupendo orgoglio presentandovi una bellissima ragazza trans che è venuta con noi per conoscerla, per parlare un pochino sia su di lei e di tante cose belle che lei ha da raccontarci. Lei si chiama Kendal, Kendal, ti buona benvenuta. Kendal Fitness, infatti come potete vedere, è bellissima.